Buongiorno Giacomino dove ci troviamo oggi? All'opera! Dall'altra parte i cretini. All'opera! Sì, sai raccontarci qualcosa dell'opera? Allora, è stata costruita insieme ai viennesi. Sì. A fatto che fosse più piccola di quella di Vienna. Perché è un forte fosse più piccolo? Perché questo vuol dire che questo è più piccolo? È più piccolo. E invece però è più bella, quindi fregatevi no! Giacomino, dove siamo adesso? Siamo alla festa di... tanto Stefano. Wow! Giacomino, abbiamo tre giorni storici? Li devo trovare. Allora, la Basilica di Santo Stefano. Visitate il Tempio Erecchio d'Onore del Primo Re d'Ingheria. La Basilica di Santo Stefano è la più grande nel paese, in grado di accogliere 8.500 persone. Ah, la faccio 8.500! Al suo interno si conserva il braccio destro di Santo Stefano. Il braccio destro? Andiamo a vedere il braccio. Il conosco ischi se l'è preso. Ciao a tutti, e oggi faremo gli scimi. Sì! 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 Hockay. Mi cmerei veramente. Il mio vero nome... È Giacomo Rosara. Siiiii! 3, 2, 1... Via! Ehh! Oleön! Oh! OLEee! PAPI! PAPI! Oggi è 31 La vigilia di Capodanno Oggi è San Filvesto Tu ti chiami? Io mi chiamo San Filvesto Ecco Non ero Giacomino una volta No Dove ci troviamo Giacomino? Eh questo è In realtà non lo so qual è Però dovrebbe essere questo Il Parlamento Il Parlamento Siamo finta di niente Che sono solo 7 grandi fuori Forse si cilla C'è il singolo dell'Ungheria il cartello ottimo e quando siamo adesso è stato un po' di più Grazie a tutti.